Il contesto, il contenuto della lezione di oggi è quello dei sistemi informativi gestionali. Ricordate che se pensiamo di identificare i livelli organizzativi in un'azienda, troviamo alla base i sistemi operativi, operazionali, quelli che si chiamano anche transaction processing system. Salendo ci troviamo poi il knowledge information system e poi ci troviamo il livello di management e il livello strategico. Ecco, i management information system sono indirizzati principalmente ai manager e parte delle funzionalità di questi sistemi sono utili anche a livello strategico. Quindi questo è il contesto che noi vogliamo trattare. Quando parliamo di management vi ricordo che dobbiamo avere in mente quello che è il ciclo, la catena di controllo tipica. Quindi noi abbiamo un'esecuzione dei processi nell'azienda, questa azienda misura quello che avviene, quindi raccoglie dei dati e verifica quello che è l'AUCAM, il risultato del nostro processo. Com'è che definisce qual è il risultato? Lo definisce in base a degli obiettivi che si era prefissato. Si avrà pianificato che cosa fare, cosa aspettarsi in futuro, definito degli obiettivi in base a questi obiettivi, definito delle misure, ha raccolto le misure e a questo punto dopo aver raccolto, confronto le misure raccolte con quelli che erano gli obiettivi. In base a questo confronto verranno prese delle decisioni, quindi si capisce se si sono rispettati gli obiettivi oppure no. Per gli obiettivi che non si è riusciti a rispettare, chiaramente bisognerà capire cos'è, non è andato come previsto e quindi intraprendere delle opportune azioni correttive. Queste azioni correttive cambieranno il modo in cui vengono svolti i processi, a questo punto svolgendo i processi dopo queste azioni correttive andremo di nuovo a misurare i risultati, a confrontarli di nuovo con gli obiettivi eventualmente col passato, eventualmente prendere ulteriori azioni correttive, eccetera. Questo è quello che è il management. Gli obiettivi a livello di management sono o di basso livello oppure sono dettati da quella che è la pianificazione strategica. Se pensiamo alla pianificazione strategica, questo è un quadro abbastanza visivamente complesso, ma tutto sommato rispetto a quella che è la realtà molto semplificata. Noi abbiamo sostanzialmente due aspetti da prendere in considerazione. Dobbiamo capire che cosa avviene, ed è essenzialmente tutto questo riquadro, e decidere come basarci su quello che avviene e come raggiungere i nostri obiettivi. Cosa vogliamo fare e come intendiamo farlo. Sul cosa vogliamo fare dobbiamo considerare due aspetti. L'istante presente e quello che è la nostra proiezione sul futuro. Il nucleo di tutto sono i nostri obiettivi. Gli obiettivi sono fondamentalmente definiti in base a tutta una serie di elementi. Quella che è la nostra missione, se vogliamo non possiamo definire la nostra missione in base agli obiettivi. Possiamo definire gli obiettivi in base a quelli che sono gli aspetti che facilitano il raggiungimento, e possiamo anche confrontarci con quelli che sono le barriere che ostacano il raggiungimento di questi obiettivi. Com'è che raggiungiamo gli obiettivi? Con quelli che sono delle strategie. Le strategie, in fin dei conti, corrispondono a una serie di azioni. Quindi io prendo, intraprendo le azioni per poter realizzare delle strategie. In pratica, come faccio a verificare che io raggiungo i miei obiettivi? Lo faccio definendo dei singoli target o objective da raggiungere. Quindi io voglio avere i costi di produzione sotto una certa soglia. Io voglio che il numero di difetti rilevati nei miei prodotti sia entro una certa fascia. Come faccio a capire se io ho raggiunto i miei obiettivi di alto livello o di basso livello? Lo faccio tramite la raccolta di misure. Quindi, se volete, qui non è evidenziato il ciclo di controllo, perché qui stiamo parlando di pianificazione strategica. Il ciclo di controllo che abbiamo visto prima, che è questo, in realtà è funzionale a verificare e fare gli aggiustamenti per poter raggiungere gli obiettivi. Quindi, quello che è comunque lo strumento fondamentali, sono le misure. Indicatori che ci dicono come sta andando la nostra azienda, i nostri processi. Si dice che ciò che viene misurato può essere realizzato. Indicatoriamente si intende anche dire che se qualcosa non viene misurato, allora non verrà mai realizzato. Se io ho un obiettivo, a fronte di questo obiettivo ho una misura, raccolgo la misura e confronto la misura con quello che volevo raggiungere, con la soglia che volevo raggiungere, allora riuscirò a raggiungere il mio obiettivo. Quindi, se la misura non viene raccolta, quell'obiettivo magari lo raggiungo, ma per caso, non perché ho innestato un ciclo di controllo. Se il mio obiettivo è non avere macchine parcheggiate in doppia fila, ma poi nessuno va effettivamente a misurare, a controllare se ci sono macchine parcheggiate in seconda fila, questo è un obiettivo, ma ragionevolmente non sarà mai raggiunto. In questo caso la misura è molto semplice, c'è la macchina oppure no. Quindi l'indicatore è trovo una macchina in doppia fila oppure non la trovo. Se la trovo, prendo un'azione, interpreto un'azione correttiva. Farò la punta. Se non ho questo ciclo di nessun obiettivo, definisco cosa voglio misurare, in base alle misure, e trasprendo delle azioni, l'obiettivo sarà difficilmente raggiungibile. Quindi, i nostri sistemi informativi di livello management, che è quello che deve fare il controllo, di livello strategico, quello che deve pianificare, indicare le linee guida, le direzioni, hanno bisogno di indicatori per poter controllare cosa avviene nell'azienda e poter intraprendere, ottenere tutte le azioni. Quindi, i sistemi informativi devono fornire degli indicatori affidabili, che quindi indiano una fotografia accurata e precisa di quello che avviene nell'azienda e possibilmente siano in numero limitato. La domanda a cui vorremmo rispondere è come definiamo questi indicatori. Ci sono vari approcci che possono essere utilizzati per andare a definire gli indicatori, alcuni sono più adatti agli aspetti strategici, altri più operi di management, ma hanno tutti una serie di aspetti in comune. Se volete, possiamo vedere le stesse tecniche a seconda delle prospettive. A seconda di cosa vogliamo misurare, una tecnica può andare meglio dell'altra. Esiste una tecnica di alto livello che si chiama Critical Satisfactor, che si applica bene per la pianificazione, che in realtà può essere utilizzata per andare a misurare un po' tutti gli aspetti dell'azienda. Gli aspetti finanziari, quelli di prestazioni dei processi, l'analyse dei clienti del mercato, e andare a vedere gli aspetti innovativi e le risorse. esistono poi tutta una serie di tecniche più precise, più a livello di management, che sono i management accounting, quindi essenzialmente quella che è la contabilità gestionale, esiste una tecnica che si chiama KPI, KPI sta per Key Process Indicator, indicatori chiave dei processi. Abbiamo delle tecniche specifiche per l'analisi dei clienti e del mercato, che però di nuovo si basano su degli indicatori. Di cosa si parla normalmente quando abbiamo a che fare con discussioni di mercato? La quota di mercato è un indicatore semplice che riguarda per l'appunto gli aspetti di clienti e di mercato. Quando parlo di innovazione e risorse critiche esiste un'altra tecnica che menzioneremo appena che è chiamata Strategy Management Matrix. Tutti questi aspetti che se a livello di management possono essere visti separatamente, quindi ci sarà una funzione che si occupa di aspetti finanziari e quindi sarà interessata esclusivamente a tecniche di management accounting, altri che guardano le prestazioni dei processi, quindi utilizzeranno fondamentalmente KPI, da un punto di vista di pianificazione e di strategia, ma queste sono tutte prospettive che sono viste complementari sulla nostra azienda. Per cui focalizzarci soltanto sull'ADS è estremamente riduttivo. Per questo motivo è stata sviluppata una tecnica che si chiama BSC, Balanced Score Cards, che cerca di mettere assieme gli indicatori, gli score, che l'azienda raggiunge sotto queste diverse prospettive. quando parliamo di indicatori a livello di management e strategico siamo un po' al limite come argomento tra quelli che sono i sistemi informativi e quella che sono le strategie di gestione dell'impresa. Quindi non so quante di queste tecniche voi avete già sentito in corsi precedenti. Qualcuno di voi ha sempre parlato di Balanced Score Cards, prima? KPI? Nessuno? No, ok, allora, meglio, sono cose nuove, quindi saranno più utili. Alla base di tutto ci sono gli indicatori e quindi delle misure. Visto che la nostra provenienza è abbastanza eterogenea, farò un'introduzione su quella che è la teoria della misura, soprattutto applicata agli aspetti, diciamo, più informativi. Probabilmente ripeterò cose che alcuni di voi avranno già sentito, ma almeno arrivano tutti a un livello comune. Allora, il concetto di misura non è un concetto nuovo o innovativo. È qualche centinaio di anni che l'idea che io conosco effettivamente l'oggetto di cui sto parlando, se sono in grado di misurarlo in qualche modo, è ha iniziato a diffondersi. Le parlava Lord Kervin qualche centinaio di anni fa, in cui in quel momento lui diceva che l'unica cosa che tu puoi migliorare è quella che in realtà riesci a misurare. la stessa attitudine che troviamo nelle tecniche di gestione moderne. Come facciamo a misurare? Possiamo andare a chiedere alle persone all'interno dell'azienda a segnare su un foglio di carta, oppure possiamo avere un sistema informativo che è in grado di raccogliere in maniera efficiente le informazioni, soprattutto di gestire una quantità elevata di dati. Questo è uno degli aspetti innovativi e essenziali dei sistemi informativi di management. La facilità di raccolta delle informazioni e la mole di dati che possono essere trattati. Che cos'è la misura o misurazione? È il processo che assegna in maniera oggettiva dei valori a delle entità per andare a descrivere o caratterizzare un loro specifico attributo. Quindi abbiamo una serie di aspetti importanti in questa definizione che se vogliamo è quella essenziale di misura. Abbiamo delle entità cioè che cosa vogliamo misurare? Le entità possono essere di natura più diversa possono essere delle persone possono essere dei processi possono essere dei prodotti una data entità può avere diversi attributi il prodotto può avere la difettosità ad esempio il costo il prezzo le persone possono avere l'altezza il peso i processi possono avere la durata ad esempio quindi dato un'entità noi abbiamo diversi attributi che possiamo misurare la chiave fondamentale del processo di misurazione è che i numerini che rappresentano la misura di un attributo di una specifica entità non sono dati a caso ma sono definiti tramite un processo che permetta di assegnare questo numero in maniera oggettiva oggettiva vuol dire che quella misura fatta da persone diverse o strumenti diversi magari anche in tempi diversi restituisce sempre lo stesso valore a meno di un errore di misurazione ovviamente dato un'entità e un attributo io posso andare a definire delle misure diverse per cui se parlo di una persona e parlo di un suo attributo che è l'età io posso andare a definire l'età ad esempio come numero di anni l'anno dell'ultimo compleanno mesi trascorsi dall'inizio dalla nascita se io parlo di codice sorgente di un programma un attributo molto comune è la lunghezza del codice come posso misurare questa lunghezza ad esempio se il codice è scritto in un formato testuale posso andare a raccontare le linee le linee di codice LOC è una misura estremamente diffusa infatti alcune misure di produttività vanno a vedere quante linee di codice è in grado di produrre un programmatore al giorno alla settimana o al mese secondo il tempo che non si vogliamo un altro modo di valutare la lunghezza è invece andare a misurare i singoli statement eseguibili questo perché dal codice sorgente che noi scriviamo in maniera testuale viene poi generato un codice eseguibile che è quello che di fatto il processore del computer esegue ecco le due cose sono due misure diverse in uno stesso attributo queste due misure potrebbero anche essere estremamente diverse e c'è una qualche correlazione ovviamente tra il numero di linee di codice che io scrivo e il numero di statement eseguibili che sono originati a partire da questo codice ma ovviamente non c'è una correlazione perfetta quindi io posso dato una particolare identità dato un attributo andare a identificare diverse misure altri esempi se io ho il processo di test di un software posso andare a studiare la durata del processo ad esempio numero di ore che ho impiegato a eseguire il processo se ho una persona che fa il test oppure una macchina che fa il test l'efficienza può essere un'altra misura ad esempio caratterizzata dal numero di difetti trovati per numero di riveli codice ispezionario altri esempi se io ho un sistema operativo l'affidabilità è una caratteristica abbastanza comune e una misura abbastanza standard è il mint antifeio ovviamente su un sistema operativo io posso andare a misurare moltissimi altri attributi e per ogni attributo posso andare a definire diverse misure quando io definisco una misura devo ricordarmi di andare a specificare quale tipo di entità applico e quale attributo voglio misurare se io non specifico queste due caratteristiche la misura può voler dire qualunque cosa pensate al prodotto interno l'ordo se vi dico prodotto interno l'ordo ognuno può immaginare un'entità per applicarlo una nazione una regione la comunità europea il mondo e quale attributo caratterizza uno può dire che misura il benessere di una nazione tramite il PIL ma il PIL potrebbe anche essere esclusivamente una misura di qual è la produttività economica di una nazione quindi non essere necessariamente correlata con il benessere quindi esistono un sacco di misure standard io posso anche utilizzarle anzi molto spesso voglio utilizzarle le misure standard piuttosto che inventarsene di nuovo ma nella mia definizione della misura devo partire da qual è l'entità che voglio andare a caratterizzare e qual è l'attributo che voglio misurare altrimenti il risultato è che ho dei numeri che non vogliono dire nulla anche perché se la misura non è destandardizzata in base all'obiettivo che mi sono posto quindi entità e attributo io posso andare a misurare in maniera diversa quindi la procedura può cambiare in base all'obiettivo quindi è estremamente importante capire qual è l'entità e qual è l'attributo l'esempio tipico è definire una misura senza sapere esattamente che cosa vogliamo caratterizzare se io considero i risultati di un tester del quoziente interdettivo è che cosa misura l'intelligenza in generale l'abilità verbale le capacità di soluzioni di problemi ci sono migliaia di test diversi se io non parto dall'attributo che voglio misurare la misura non vuol dire assolutamente nulla un'altra misura molto utilizzata meno nel sviluppo del software sono il numero di difetti diviso le linee di codice di solito le linee di codice non sono misurate direttamente ma sono misurate in migliaia per cui chilo linee di codice però questa misura che cosa vuol dire è una misura della qualità del codice oppure è una misura dell'efficienza di un processo di test quindi di nuovo prima devo capire per cosa voglio usare la misura quindi parto dall'obiettivo e poi definisco la misura ho diversi tipi di misure e diversi scopi per utilizzare una misura due tipi fondamentali poi vedremo che in realtà ci sono altre classificazioni sono le misure dirette e le dirette le misure dirette sono quelle che posso misurare immediatamente e quelle indirette invece misuro ad esempio sulla base di altre misure dirette l'uso l'uso delle misure può essere fatto per semplicemente fare una valutazione che è l'obiettivo principale del ciclo di controllo quindi io definisco un obiettivo misuro e confronto il mio risultato con l'obiettivo in base alla valutazione di questo confronto prendo le decisioni posso anche utilizzare le misure per fare della predizione per fare una predizione però io ho bisogno di un qualche modello su cui basare la mia predizione quindi mentre per l'assessment io ho sommato una volta che ho definito la misura e il motivo per cui la misura è importante ha senso andarla a misurare e confrontarla per la predizione io devo avere un qualche modello che mi dica come e che ruolo giocano le varie misure nel mio sistema di predizione esempio di misure dirette sono ad esempio la lunghezza del codice sorgente ad esempio misurando le linee di codice allora le linee di codice sono una misura che se leggete la letteratura di generazione del software sono utilizzate tantissimo e sono altrettanto discusse hanno una loro validità ma molto discursa però in pratica sono molto facili da misurare quindi alla fin fine in molti casi io utilizzo una misura perché riesco a misurarla facilmente la durata di un processo in termini di ore di mesi o unità che preferiamo il numero di difetti l'effort di un programmatore di un qualunque risorso umano coinvolta normalmente misurata in mesi uomo in effetti questo è spesso il risultato di una predizione io ho una serie di caratteristiche devo svolgere un progetto in base alle caratteristiche del progetto e a alcuni modelli che ho vado a produrre come risultato una misura che è l'effort richiesto per svolgere quel progetto e l'effort molto spesso è misurato in personale la traduzione sarebbe mesi persona ma in italiano non si usa di solito è meno politically correct l'espressione mesi uomo ma è quello che si usa di solito in italiano anche questa è una misura molto grossolana perché misurare l'effort in base a mesi per il numero di persone è molto criticabile perché una persona non può essere sostituita da un'altra le capacità e gli schips possono essere molto diversi quindi di nuovo come LOC questa è una misura molto semplice ma molto utilizzata ed è utilizzata proprio perché è molto semplice esempi di misure indirette sono l'esempio della produttività del programmatorio numero di ringhe diviso il mesi lavorati quante linee di codice riesce a produrre al mese la densità di difetti di un modulo ad esempio è il numero di difetti diviso la dimensione del modulo ad esempio misurati in un occhio quindi io ho moltissime misure molto utili ad esempio la produttività della densità di difetti che non sono misurati direttamente ma sono misure indirette per cui si basano vengono appaccolate in maniera derivata da altre misure sistemi di predizione come dicevo prima hanno bisogno di un qualche modello ad esempio l'effort necessario per sviluppare un sistema può essere calcolato come una costante moltiplicata per s la dimensione stimata del sistema elevato a un particolare esponente e questa è la parte diciamo matematica del modello devo avere anche un qualche sistema per andare a determinare questi coefficienti a e b e per andare a valutare i risultati e questo è un tipo di esempio di modello molto molto semplice molto più spesso io ho dei modelli che mi danno non una stima precisa ma un intervallo che mi danno la stima come valore atteso più l'ampiezza e l'intervallo di cerchezza anche i modelli di stima sono fondamentali per andare a sviluppare delle strategie e intraprendere delle azioni correttive vi faccio un esempio molto concreto e molto vicino a voi immaginiamo di avere a disposizione un qualche modello più o meno complesso che in base a varie caratteristiche vostre i voti che prendete con mano durante il vostro percorso vi da una stima del vostro voto finale di laurea ecco un sistema di questo tipo può essere utilizzato a voi prima di raggiungere l'obiettivo finale che è il voto finale la laurea è il voto per andare a capire se nel prossimo esame potete accettare un voto sotto il 25 oppure 9 quindi anche i modelli predittivi sono utili per poter andare a guidare la riduzione di un processo complesso verso un determinato obiettivo perché molto spesso se uno misura il raggiungimento prende la misura alla fine del processo a quel punto ormai è troppo tardi per andare a agire in qualche modo allora molto spesso le entità che io vado a misurare sono di tre tipi fondamentali sono le risorse l'input che arriva ai miei processi le caratteristiche del processo software ma non solo e il prodotto finale cioè che cosa viene prodotto dal mio processo di queste sono le tre principali categorie di entità che noi possiamo andare a misurare quando noi andiamo a misurare un'entità di solito siamo interessati a due tipi di misure misure interne e quelle esterne cosa vuol dire interna interna vuol dire che può essere misurata esclusivamente sulla base dell'oggetto dell'entità che ho di fronte la lunghezza di un pezzo di codice può essere misurata come misura interna senza far ricorso ad altro l'affidabilità di un prodotto invece non può essere misurata esclusivamente facendo riferimento al prodotto stesso devo vedere il prodotto utilizzato e andare a raccogliere le misure di difetti quindi non è il prodotto da solo su cui posso andare a misurare l'affidabilità ma posso misurare immergendo il prodotto in un dato contesto quindi io devo misurare come il prodotto regisce questo contesto ad esempio misurando l'affidabilità del prodotto molto spesso quelle che interessano di più sono proprio le misure esterne peccato che le misure esterne sono più difficili da raccogliere e soprattutto vengono raccolte a posteriore per cui molto spesso cosa si fa si cerca di trovare una qualche correlazione tra le misure interne e quelle esterne in modo da controllare quelle interne che sono molto più facili da gestire qual è la durata della vernice di un'automobile agli agenti atmosferici io voglio sapere quanto tempo posso tenere la mia auto prima che si facciano i buchi e si formi della ruggine questa è ovviamente una misura esterna perché non posso andare guardando semplicemente l'auto a capire quale sarà la durata la posso misurare solo dopo aver immerso l'auto dentro l'ambiente e osservato e dato a misurare il tempo che trascorre dal momento in cui l'auto viene prodotta al momento in cui compare prima anche di quanto è spessa la vernice della mia automobile questa è ovviamente una misura interna perché può essere misurata esclusivamente sulla base del mio prodotto ovviamente io mi aspetto che ci sia una qualche correlazione tra questa misura interna lo spessore della vernice e la misura esterna la durata della vernice agli eventi atmosferici quindi esterno vuol dire misura del prodotto o anche del processo immerso in un particolare ambiente misura interna vuol dire misura basata esclusivamente sull'oggetto sull'etità che sto misurando e quindi vi ho fatto l'esempio della lo spessore della vernice perché la vernice sta tra virgolette all'esterno dell'auto la sospessore è ovviamente una misura interna nel senso che può essere raccolta esclusivamente sulla base del prodotto automobili qui ci sono alcuni esempi di misure relative al prodotto che è il processo di sviluppo del software non mi soffermo particolarmente date queste diciamo definizioni di base duecenti superate la terapia della misura in generale man mano che io comprendo meglio un particolare fenomeno sono in grado di sviluppare delle misure via via più raffinate e dettagiate esempio se pensiamo alla temperatura dei liquidi centinaia di anni prima di Cristo il confronto era più caldo più freddo di poi nel 1600 sono stati inventati i primi termometri a questo punto la misura era decisamente più raffinata ma tutto sommato riuscivo a confrontare le temperature in termini di più o meno caldo di poi è stata identificata la scala è stata proposta la scala Fahrenheit poi quella centigrada e poi a metà dell'800 è stata proposta la scala assoluta quindi ho avuto un'evoluzione nel tempo che mi ha portato ad avere misure sempre più raffinate di quella che è un attributo molto comune di un'entità ad esempio i liquidi la teoria della misura è essenzialmente quella disciplina che ci dà le basi scientifiche per andare a capire se abbiamo definito una misura quali affermazioni possiamo fare su una particolare misura qual è la scala con cui potremo misurare e quali tipi di operazioni statistiche possiamo fare su queste misure fondamentalmente un sistema di misura traduce quelle che sono delle osservazioni empiriche io li osservo tramite l'esperienza nel mondo reale ad esempio Fred è più alto di Joe questa è la misura della attributo altezza dell'entità persona quello che voglio fare io è fare una mappa tra una misura empirica e un'esperienza un fatto empirico e una misura un numero quindi io devo definire quella che è una corrispondenza un mapping tra un'entità e la misura di un suo attributo per cui se a Joe assegno 180 come misura del suo attributo altezza e a Fred assegno 172 come misura del suo attributo altezza la relazione che Joe è più alto di Fred viene mantenuta nel mio sistema di misura perché la misura di Joe è maggiore della misura di Fred e questo è estremamente intuitivo ma è la base per poter andare a ragionare su i sistemi di misura quindi io ho un sistema di misura valido in estrema sintesi se le relazioni che io osservo empiricamente sono mantenute nel mio sistema di misura in funzione di quello che voglio misurare della precisione con cui lo misuro posso utilizzare diverse scale le scale di misura mi definiscono quella che è la ricchezza con cui io posso andare a misurare degli attributi sostanzialmente io vado a scegliere la scala e il tipo di misura cercando di risolvere tre questioni principali trovare quello che il sistema la misura corretta per un dato attributo cioè voglio poter rappresentare in maniera opportuna un certo attributo e questo è un problema di rappresentazione un altro problema è andare a individuare tra più misure alternative quella che è più adatta al mio scopo e scegliere quella che mi dà più vantaggio in generale io ho diversi tipi scale di misura che mi consentono una maggiore o minore ricchezza quindi più è ricca una scala di misura più sono i tipi di relazioni che empiricamente osservo che sono rappresentate anche nel mio sistema di misura quindi dato un attributo io ho quella che si chiama misura ammissibile se quella particolare misura è in grado di rappresentare tutte le relazioni empiriche che io osservo per quel particolare attributo mi interessa sapere solo che una persona è più alta di un'altra e quindi ho semplicemente una relazione di ordine vuol dire che la mia scala sarà tutto sommato abbastanza semplice voglio invece sapere che la differenza di altezza tra due persone è uguale alla differenza di altezza tra altre due persone quindi mi interessa proprio la differenza tra le misure e allora ho bisogno di una scala un po' più raffinata per cui da una scala semplicemente ordinale devo andare a una scala di più di più di intervento voglio poter rappresentare il fatto che l'altezza di una persona è il doppio dell'altezza di un'altra quest'altro tipo di relazione empirica che io voglio rappresentare mi richiede una scala ancora più sofisticata una scala del tipo razio in generale io definisco come amissibile per un particolare attributo una misura che sia in grado di rappresentare tutte le relazioni empiriche di mio interesse di mio interesse significa che di nuovo io definisco la misura in base ai miei obiettivi senza obiettivi la misura non ha senso quindi ho un'entità un attributo che voglio misurare con i miei particolari obiettivi in base a questi definisco la misura è possibile che ci siano molte misure ammissibili per una particolare attributo io dico che ho una trasformazione ammissibile se questa trasformazione mi trasforma una misura ammissibile in un'altra misura ammissibile in base a quanto è sofisticata la misura avrò un insieme di trasformazioni ammissibili molto più ristretto vediamo un po' più nel dettaglio che cosa intendiamo dire vediamo ad esempio la scala che ha la ricchezza minore che è la scala nominale io semplicemente definisco una serie di classi e associo ogni entità a una particolare classe che vuol dire che per le persone posso unificare due classi maschi e femmine non ho nessuna relazione in piega se no il fatto che siano diversi che rappresento non c'è un ordine non c'è una differenza non c'è un rapporto quindi semplicemente assegno delle classi un altro esempio io ho un difetto voglio capire dove si trova e qual è l'origine di questo difetto il difetto può essere stato introdotto in fase più specifica durante la progettazione e durante la scrittura del codice il fatto che un difetto sia messo introdotto in fase di specifica piuttosto che in fase di codifica sono semplicemente due classificazioni diverse non ho nessun'altra relazione empirica quali sono le trasformazioni ammissibili se io dico che la misura è 1 se il difetto è originato durante la specifica 2 se è originato durante il design 3 se è originato durante la codifica invece di dire 1,2,3 potrei dire 101 3,1 e 5 l'unico requisito di una trasformazione di questo tipo è che i valori siano distinti per cui potrei dire S, D e C invece di mettere dei numeri potrei addirittura mettere delle lettere un passo in più è il caso in cui io utilizzo una scala ordinale e quindi ho una redazione d'ordine a questo punto sono misure ammissibili tutte le misure che mantengono quest'ordine quindi qualunque trasformazione che mi faccia passare da un sistema di misura all'altro mantenendo quello in particolare ordine è una trasformazione valida ad esempio io potrei definire tre classi di dimensione del codice piccolo medio e grande ho un ordine ben definito quindi piccolo è minore di medio e medio è minore di grande io posso ad esempio definire i valori uno due tre ma anche dieci venti trenta oppure uno dieci cento l'importante è che la relazione d'ordine sia mantenuta un passo in più è quello della scala di tipo interval oltre all'ordine aggiungo anche la differenza quindi io ho aggiunto una relazione empirica in più e ho una scala un po' più raffinata e quindi ho come ammessibile qualunque trasformazione che mi mantenga invariate l'uguaglianza tra le differenze un esempio classico di scala di tipo interval è la temperatura se voi guardate questa equazione è esattamente l'equazione che lega la misura della temperatura in gradi celsius alla misura della temperatura in gradi fahrenheit quindi se la differenza tra due temperature è uguale alla differenza tra le due temperature questa relazione viene mantenuta sia che le misure in celsius sia che le misure in fahrenheit in più ovviamente viene mantenuto l'ordine quindi se la temperatura è minore della temperatura b questo è valido sia che le misure in celsius sia che le misure in fano un passo ancora successivo è aggiungere i rapporti tra i valori e questa è la scala del tipo fashion ratio una caratteristica distintiva di questa scala è il fatto che esiste uno zero che rappresenta il fatto che una certa caratteristica è completamente assente e di solito a una scala di tipo ratio sono associate delle unità e quindi ho degli incrementi ad intervalli uguali chiamati unità in questo caso l'unica trasformazione che posso fare è cambiare la scala per virgolette dei valori la misura della temperatura in gradi kelvin è un classico esempio di misura di tipo ratio lo zero celsius o fahrenheit non vuol dire che la temperatura è assente ok mentre invece rispetto al calore in questo caso mentre invece lo zero assoluto della scala kelvin mi dice che la calore è assolutamente assente quando sono lo zero un esempio di trasformazione è in termini di lunghezza del codice è passare da linee di codice a numero di caratteri fondamentalmente io dico che la dimensione del codice di caratteri è uguale a una costante moltiplicata per il numero di linee di codice dove la costante è la dimensione media della linea in caratteri infine abbiamo quella che è la scala assoluta la scala assoluta vuol dire che io ho una sola possibile misura di solito lo faccio andando a contare degli elementi ok di solito il numero di eventi che avvengono vengono contati ovviamente che altra misura posso avere il numero di difetti ad esempio o li conto oppure non è che posso diventare un'altra misura non è che posso moltiplicare il numero di eventi contati per due perché sennò cambia completamente il significato in questo caso non ci sono trasformazioni immissibili l'unica misura è quella quindi riassumendo le scale che di solito possono essere utilizzate sono nominale e io posso trasformare una scala nominale in un'altra semplicemente con una corrispondenza 1 a 1 basta cambiare le etichette che do alle mie categorie o plus la scala ordinale basta che io abbia una qualunque funzione monotona è crescente e questa è una trasformazione valida posso avere gli intervalli e quindi aggiungo una caratteristica in più ho la scala razio in cui aggiungo i rapporti tra diverse misure e infine ho la scala assoluta che corrisponde a contare gli eventi in base a questi semplici concetti qual è la scala quali sono le trasformazioni immissibili io posso andare a valutare un sistema di misura e capire se è corretto o meno per i miei scopi ma questo lo vedremo la prossima lezione grazie a tutti